Finalmente si mangia dopo tante ore di attesa Sì ore di attesa Ti giustisca mezzogna e mezza Com'è questa pasta? Solo per me Ma che tu non le mangi più pasta? Perché? Perché sono a dietro E' a dietro ragazzi Che poi è vero che ho la pancia Ma dire a me che pancia che hai Cioè vedo persone Amor E tu che ti stai mangiando? Ma io non li mangio ragazzi Non so se a voi piace Pina la prossima volta è per te Qua è Pina Pina una mia amica Una sua amica Pina la prossima volta è per te Aspettate io ho la pasta col soggetto di qua Anzi così mi capisce Pina Maria Pina Maria Va bene ci metto una cosa Ma diciamo che ora è pronta Appena so che devo andare da tuo figlio Te ne faccio una pendola piena piena A Cicchila A Pina? A Pina Maria O Pina Maria Va bene ragazzi buon pranzo Scriveteci qua sotto nei commenti cosa state voi pranzando Aspettate Per spiarci Per spiarci Perché ogni persona che non ci segue Si fa 30 profili fake 30% Sapete quanti fake ci sono? Mamma mia A Pina Va bene ragazzi buon pranzo A dopo A Pina Maria A Pina Maria